Ehi! Ehi! Eccoti qua! Chi sono? Beh, io sono il quartiano del sonno. Questo è un istante prima che tu ti sia addormentato o addormentata. Sei un attimino come bloccato in questa dimensione dove ci sono io, ma non ho intenzione di tenerti per molto, non ti preoccupare. Sono qui appunto perché devo decidere il sogno che farai stanotte e c'è bisogno di un attimino di preparazione perciò ti rubo soltanto qualche istante. Va bene? Quindi, ora ti spiego che cosa farò. Ti faccio prima una domandina, poi qualche trigger, qualche altra domandina. Ma non ti preoccupare, l'unica cosa che devi fare adesso è indossare un paio di cuffie o auricolari, stenderti sul tuo letto. Fiditi di me. Te lo dico tutte le sere, solo che ovviamente tu non te lo ricorderai appena ti addormenterai, quindi va bene così. Ok? Allora, prima di tutto rimuovo i guanti. Molto meglio. Molto, molto, molto meglio. Allora, una prima domanda che ti faccio è quanto sonno hai in una scala da 0 a 10, dove 0 è il minimo e 10 è il massimo? Ok. Ok. Ma adesso verificheremo questa cosa perché ho intenzione di fare qualche trigger. Concentrati sul suono. grazie a questi io vedrò se la tua mente è ancora attiva. grazie a tutti. sei steso o stesa nel tuo letto ora? Hai la testa appoggiata al cuscino? Devi riuscire a metterti comodo, a rilassare le spalle. Concentrati sul suono. grazie a tutti. 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 Tutto a posto. Adoro questo suono. Sai che cos'è questa? Una palena di plastica con dentro un sacco di orbi. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Segui la punta del mio naso, segui la punta del mio naso, segui la punta del mio naso. Guarda sempre la punta del mio naso, ma stavolta chiudi un occhio, chiudi un occhio, chiudi, chiudi, chiudi un occhio, adesso chiudi l'altro occhio, guarda il mio naso sempre solo con un occhio, ok, dai allora mi sembra che la tua mente sia ancora abbastanza attiva, per essere in quella fase appunto dove fai a dormire. Quindi ne approfitto per farti le altre domande. Per quanto tempo vuoi dormire? E non mi dire per sempre perché non posso farti dormire per sempre. Scegli un numero di ore. Ok, mi sembra un buon compromesso. Poi, vuoi sognare stanotte? Oppure preferisci dormire senza sognare, quindi così? Ok, puoi sognare, perfetto. Perfetto. Stanotte, quindi visto che vuoi sognare, vuoi andare in qualche posto, vuoi sognare qualcuno o qualcuna, oppure, non lo so, vuoi sognare del cibo, un'esperienza speciale. Ok, dimmi tu, abbiamo una grande vastità di scelta divisa per settori. Ok, quindi ti va bene andare in un luogo, qualcosa di nuovo però mai fatto prima? Va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene. Allora a questo punto io ti faccio vedere quattro foto, quattro foto molto molto diverse. Tu mi dirai se, per esempio, tra queste quattro c'è quella che vuoi sognare, il luogo in cui vuoi andare per sognare. Allora, la prima foto è questa qui. Praticamente abbiamo un grande, un grande bosco, quasi un bosco, un bosco magico, un bosco incantato. E' giorno, ci sono tanti, tanti, tanti alberi che coprono un po' la luminosità del cielo però. Il sole riesce a passare attraverso le foglie per dare degli accenni di luce su tutto il percorso. Se no abbiamo questa immagine di una spiaggia, sei seduto o straiato su questa spiaggia e osservi il mare, le onde del mare. Magari bevendo il latte di una noce di cocco, ascolti il suono delle onde che si infrangono sulla sabbia. La terza immagine è del tutto diversa, invece abbiamo il deserto. Quindi tu sei nel deserto, sei solo tu. Ti prendi del tempo per pensare a te stesso, a chi sei veramente, con magari le mani nella sabbia. Che ne dici? Tipo piacere? Altrimenti abbiamo questa qui, che adoro tantissimo di un teatro, un teatro di notte. Se sei solo tu in questo teatro, stai vivendo proprio il tuo momento da protagonista. Ammiri l'architettura, la decorazione, sali sul palco e dai spettacolo delle tue abilità. Ok, perfetto. Adesso abbiamo quasi finito. Ti tengo qui con me ancora giusto qualche minuto per farti le ultime ultime domande. Ok, perfetto. Hai messo la sveglia per domani mattina? Ok, ok. Sei andato o andata in bagno? Allo stesso tempo hai bevuto un po' d'acqua? Perché, non so se lo sai, ma ti puoi disidratare durante il sonno se non bevi un po' d'acqua prima di andare a dormire. Sì. Ti sei lavato? Ho lavato i denti? Ok, ti credo. Sì, sì. Sono puliti. Ti credo. Quindi, anche se purtroppo non ti ricorderai di tutto questo, sono felice di aver passato del tempo con te. Sei un'ottima persona e ti auguro di dormire bene e di apprezzare ciò che sognerai. Io metto a posto le ultime cose per crearti questo sogno e vedrai che a breve inizierà. Ok? Va bene. Allora, io ti do un bacio, va bene? Buonanotte, 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 buonanotte.